Da oggi il tiro a segno di Sant'Anna accoglie i suoi ospiti con un nuovo murale realizzato dagli studenti del liceo artistico Passaglia. Alla cerimonia di inaugurazione era presente tra l'altro il CT della Nazionale di Tiro, la medaglia d'oro olimpica Roberto Di Donna. Gli azzurri si stanno allenando proprio nell'impianto di Sant'Anna e Di Donna ha fatto i complimenti a studenti ed insegnanti per l'opera realizzata. Ideatrice del murale è stata Marta Marchio della Quarta E che ha lavorato insieme ad un gruppo di altri studenti e sotto la supervisione dei professori Francesco Micheli e Giuliano Toma. Mi sono ispirata durante la progettazione del murales a vari murales di New York e poi alle figure quelle tipiche del tiro a segno come quella con il fucile, il biathlon e niente, questo. Il concetto dell'opera è stato spiegato dal presidente del poligono Giuseppe Pardini. Il disegno è fatto apposta per scindere dalla parte delle discipline olimpiche da quello che è il nostro servizio istituzionale con le guardie giurate, militari e quant'altro. Gli autori hanno dovuto superare diverse difficoltà, in particolare quella relativa alla superficie di lavoro. A livello tecnico il muro a buccia d'arancia non ha aiutato per niente, quindi c'è stata un'esecuzione un po' nei minimi dettagli, siamo dovuti entrare proprio nelle fessure del muro. Per gli insegnanti il progetto ha raggiunto l'obiettivo in tutti i sensi. Questa è la traduzione effettiva e pratica di quello che deve essere, secondo noi, il PCTO, la vecchia alternanza scuola-lavoro, cioè portare fuori dalla scuola le competenze, l'impegno e il lavoro dei ragazzi che quindi vedono materializzato praticamente nel mondo reale quello che fanno all'interno delle mura scolastiche.